e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oramai ci siamo questa è una settimana molto importante per il futuro di fortnite si perché infatti a metà settimana il 6 febbraio per la precisione dovrebbe arrivare la patch 11.50 l'ultimo aggiornamento di questo lunghissimo capitolo 1 della season 2 di fortnite aggiornamento importantissimo perché porterà il nuovo motore fisico il chaos engine ragazzi lo vedremo bene nel corso del video nel video di oggi parleremo anche però di un divieto incredibile fatto in kentucky in america fortnite è stato vietato quindi parliamo comunque di una realtà che si avvicina molto alla nostra in quanto i giocatori americani di fortnite sono famosi in tutto il mondo andremo a leggere l'articolo che ci interessa e ovviamente è oltre a una bella sbadilata di leaks per tutti voi un possibile grande ritorno il rampino il grappler non so se ve lo ricordate ve lo farò vedere prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno sulla piattaforma viola passano a salutarmi e mi supportano iscrivendosi al canale grazie mille ragazzi per essere anche voi di là a divertirvi un pochettino nelle mie live mi raccomando è non dimenticatevi però di iscrivervi anche a questo canale oltre che all'altro e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video delle 13 e 30 ma prima e io ve la faccio la la domandina lo sapete ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto ragazzi li leggo e non è che non li leggo e la domanda di oggi è una domanda che richiamo un pochettino tutti ma secondo te che cosa non può mancare nella season 2 allora va bene la season 1 l'abbiamo fatta così era la novità nuova mappa nuove idee nuove cose ma in fin dei conti il prodotto è stato abbastanza scarno cos'è una roba che bisogna che ci sia assolutamente per me ci deve assolutamente essere un cambio morfologico della mappa vuol dire uno o due location in più ragazzi basta correre in mezzo ai prati come haidi da una parte all'altra un po di siti in più secondo me ci vanno assolutamente dimmi invece quello che non può mancare secondo te qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi il primo argomento di oggi ed è il calendario che vi avevo già mostrato qualche giorno fa che ci conferma che il giorno 6 febbraio giovedì arriverà appunto l'update e insieme al nuovo chaos engine si parla di un lungo lunghissimo evento che durerà due settimane e che ci porterà quindi alla season numero 2 tra l'altro c'era anche il comunicato ufficiale di qualche giorno fa rilasciato direttamente da epic games che diceva abbiamo dovuto allungare la season dal 12 febbraio al 20 febbraio però già dalla patch 11.50 vi faremo vedere il nuovo motore grafico e visto che ne stiamo parlando ampiamente di questo motore grafico beh ragazzi prima di dirvi nel dettaglio quello che vedremo volevo anche farvi vedere una curiosità che arriverà a cavallo appunto di questo evento il che è proprio il 14 febbraio no i giorni di san valentino sapete che fortnite tiene tantissimo a questo evento sia per i creator sia per gli utenti che giocano al loro battle royale l'anno scorso c'era stata regalata la copertura non so se la ricordate base fucsia con i cuori neri totalmente gratuita quindi ci auguriamo che anche quest'anno sia magari così e che ci venga dato un regalo molto gradito e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi sono delle immagini incredibili dedicate proprio al caos engine vediamole un attimo nel dettaglio perché sono molto interessanti qualche giorno fa vi avevo fatto vedere l'immagine sopra di me che ritrae proprio una struttura di fortnite un pilastro uno per uno su bar 3 bar 4 piani se lo andiamo a guardare nel dettaglio noterete che nella parte di destra quindi nell'immagine vista senza tutte le tutti i dettagli in game ogni singolo pezzo costruito potrebbe avere dei fori di proiettile forse capite meglio guardando questa immagine come vedete è stato un po tutto splittato ed è stato fatto vedere un po come lo vedono i designer che costruiscono tutto il comparto grafico di epic games e si ragazzi il nuovo motore fisico sarà un qualcosa che stravolgerà completamente la fisica la dinamica e la meccanica di gioco anche perché appunto pensare che ogni cosa che colpiamo con un proiettile abbia poi la visione del colpo del proiettile sull'oggetto colpito beh cambierebbe davvero tantissimo voglio farvi vedere prima di andare avanti un video molto interessante che vi fa vedere esattamente come funziona il motore fisico che sta per essere implementato su fortnite guardate gli effetti di distruzione dei dettagli utilizzando questo motore grafico no let's just recall the entire building demolition grade architectural recall systems are now online good thing it's a bank holiday this place wasn't in great shape before we arrived capite ragazzi che avere un motore grafico con tutti questi dettagli sicuramente sarà una bella ventata di aria fresca per quello che riguarda il nostro game quindi non possiamo altro che aspettare ancora qualche giorno e vedere quello che cambierà con la patch 11.50 e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi si parla proprio di un articolo che è stato pubblicato direttamente su una pagina twitter americana Kentucky High School have banned Fortnite from the eSports program for being too violent in poche parole innanzitutto sono proprio avanti anni luce le scuole americane hanno nei loro programmi scolastici gli eSports quindi tanta tanta roba ma hanno bannato Fortnite perché è considerato un gioco troppo violento dicendo noi nel nostro istituto non ammettiamo l'utilizzo di armi e non utilizziamo la violenza ora se mi dici che Fortnite è un gioco violento allora non lo so ragazzi ora Clash Royale che cos'è un gioco di guerra nel senso cioè non riesco a capire in esso non c'è sangue non ci sono come dire elementi che possono indurre le persone a andare in giro e sparare alla gente se mi pensi che un sacco di persone gioca a Call of Duty gioca a Battlefield gioca a tutti quei giochi realistici dove la violenza è sicuramente il conflitto che c'è proprio nel game in sé è sicuramente parte integrante del gioco beh io credo che qualcosa sotto ci sia assolutamente un peccato che sia stato bannato da questo istituto però sicuramente una notizia che è giusto che sappiate anche voi non ho tempo di parlarvi del rampino cercherò di parlarvene comunque nel video di domani delle news delle 13.30 io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi a questo canale e a quello sulla piattaforma viola io sono i live di là e noi ci vediamo presto ciao ciao